Parmareggio, va! La mia marca di parmigiano preferita! Vieni, ti mostro il segreto di un grande indenditore! Wow, papà! Che lavoro! È il Parmareggio 30 Mesi! Qui custodisco il suo gusto inimitabile! E proprio questo capolavoro, incartato in diversi formati, si trova nei migliori supermercati! Parmareggio 30 Mesi per tutti! Anche Parmareggio 30 Mesi partecipa al grande concorso Tesori del Gusto! Scopre i fantastici premi sul sito! Grazie per la visione!